buongiorno eccoci qua con l'hack del ZTE mc801a questo è dentro la pagina web vi mostro subito che esiste in molti firmware una pagina nascosta debug page ok e vi permette di selezionare una singola banda non potete anche ne so selezionarne due o tre o quattro potete farne solo uno quindi abbastanza inutile a mio avviso però esiste non in tutti i firmware attenzione potete impostare la banda 5g cosa significa impostare la banda 5g gli potete dire puoi utilizzare solo la n78 puoi utilizzare solo la n3 come io ogni tanto faccio pensate ogni tanto gli dico voglio usare solo dss mi serve perché mi serve un po di banda in upload e questa è il famoso cell lock quello che vi ho descritto nell'altro video per bloccare il physical cell id e rfcn con questo si fa il lock di cella quindi banda quindi bloccate una banda su una determinata bts allora questa pagina non è sempre presente a volte è presente mancano dei pezzi quindi comunque ho voluto risistemare un pochettino tutto questo con l'hack che vi regala altre insomma caratteristiche come si fa prima di tutto dovete andare su questa pagina vi lascio il link in descrizione selezionate tutto mi raccomando quando la visitate non dovete tradurlo con traduttori così lasciatelo così com'è altrimenti distrugge il codice questa cosa appena entrate a visitare togliete i traduttori potete se vi dice inglese va bene lasciatelo così com'è fate ctrl a per selezionare tutto ctrl c per copiare oppure sotto mac command a command c quali sono i browser supportati è supportato safari e chrome su pc e mac sotto android dovrebbe funzionare con dolphin non l'ho testato se qualcuno lo prova mi può dire con dolphin dovrebbe funzionare e sotto ios funziona con safari quindi selezionate tutto copiate a questo punto andate nella gestione dei preferiti quindi mi è arrivato messaggio di telegram proprio adesso scusate eccoci a questo punto preferiti gestione preferiti aggiungi nuovo preferito inserite nome che volete 801 nell'urla incollate ok potete fare pulsante destro incolla oppure control v oppure command v salvate a questo punto e ritornate sulla vostra pagina ovviamente questa operazione la fate una sola volta una volta che avete il preferito siete a posto visitate la pagina siete loggati fate richiamate il vostro preferito fate così e tada arriva la vostra bella vostro bella vediamo velocemente com'è fatto questo abbastanza standard abbiamo il segnale rsrp rsrq e abbiamo le rsrp per la banda 5g abbiamo tutti questi bei parametri abbiamo anche l'indicazione sul rumore per quanto riguarda il 5g questo quello del 4g quando il 5g non è disponibile va via questa parte e va via la barra superiore come vedete adesso siamo con la n3 attivata abbiamo la banda principale vi dice l'ampiezza della banda primaria questa la primaria attenzione quando lavorate monobanda questa informazione della larghezza di banda non c'è il router non la restituisce io non riesco a mostrarvela e vi fa vedere quali sono le bande in questo momento aggregate e quindi vi mostra principale questa aggregata b7 più b1 e la n3 in realtà il router in questo momento non la sta veramente utilizzando nel senso è impostato per utilizzare queste bande ma non sta usando l'aggregazione veramente adesso vi faccio vedere uno speed test così non saranno granché perché non è che sono nelle condizioni ottimali comunque vedete che quando l'attivazione è attiva questa parte delle bande si illumina di rosso quindi avete un'indicazione di quando sta effettivamente aggregando poi andiamo avanti abbiamo l'indirizzo ip della one questo l'ho voluto mettere perché a volte mi si chiede ah ho l'ip pubblico non ho l'ip pubblico entro con le camere non le camere fate così vedete se avete l'ip della one corrisponde all'ip di il mio ip.org che non va neanche era il mio ip. non mi ricordo più arriva con molta calma questo il mio ip i t ok come vedete non corrisponde non corrisponde con questo quindi vuol dire che siete anattati punto andiamo avanti avete la l'indicazione della temperatura del modem del 4g è utile per vedere che effettivamente non lo state friggendo ma sarà dura con il dissipatore che c'è e della parte 5g dopodiché tutta questa parte in bluetto vi mostra delle pagine che possono essere più o meno nascoste in realtà questa non è una pagina nascosta ma per comodità visto che la richiamo spesso l'ho voluto inserire qua qua ho messo la debug page vedete se l'avete alcune cose non le comprendo questo è il watchdog in teoria si dovrebbe essere che infilate dentro un ip un url anzi meglio un ip secondo me un ip prova a pingarlo se dopo un po non lo pinga dovrebbe risettarlo onestamente non l'ho testato non è una funzionalità che mi interessa più di tanto e quindi fateci in giro voi molte di questa voce non le conosco ve le mostro le ho fatte vedere e tutto quanto questa è la pagina nascosta ma non so effettivamente che cosa faccio tipo questo questa è roba un pochino troppo tecnica non la conosco roba di lte suppongo questo voice switch non fa un bel tubo che io sappio non ho visto anche sulle antenne qui non ho rilevato differenza comunque la pagina c'è io ve la mostro poi abbiamo le impostazioni per il voi ecco questo è importante perché vi ho fatto vedere che questo router ha una pagina una porta rj11 che non funziona con la sim la voce sim però funziona con il voip quindi voi fate cliccate qua fate apply e a questo punto vi dice che dovete fare un restart adesso dico di no perché non voglio farlo e poi avete tutte queste impostazioni classiche non vi faccio rivedere perché potete rivederle sul video del 628 sono semplicemente i vostri account sip entrate qua configurate tutto qua questo lasciatelo così com'è e non ci sono problemi le ritrovate anche qua queste voci tutte quante poi questa è ulteriore non toccata l'onestate lasciatela lì com'è e non ci sono problemi esiste anche questa impostazione non so cosa faccia l'ho provata dovrò provarla in futuro quando collegherò i cavetti sulla mainboard non so effettivamente che cosa faccia se qualcuno lo scopre lascia un commento sotto esiste anche queste impostazioni per le antenne millimetriche non funziona niente date anche conferma ma non funziona io li ho messa perché insomma magari qualcuno mi illumina e mi spiega meglio temperature pagina delle temperature nascoste ma in realtà le abbiamo le ho tirate fuori perché comunque sono informazioni abbastanza interessanti questa è una cosa curiosa cosa fa praticamente voi impostate una temperatura se la media delle temperature dei due modem arriva a questa temperatura impostata il led e il router iniziano a lampeggiare può essere simpatica e questa pagina t3 ho provato impostarla non funzionato probabilmente per altri tipi di altri tipi di di router di hardware non lo so andando avanti come si impostano le bande come al solito 7 4g e quindi allora il discorso m non esiste su qua come quello huawei voi impostate che ne so 1 più 3 più più 7 il router sa che deve usare quelle bande e lui sceglierà come impostare la primaria non ci potete fare niente non potete fare il trucco di impostarne prima uno poi impostare tutte le altre non funziona quel trucco quando invece fate auto lui cerca di utilizzarle tutte quante come vedete è molto reattivo continua a cambiare insomma abbastanza mezzo cavallo impazzito come l m5 per le bande nelle bande in 5g possiamo fare che ne so 3 oppure potete fare adesso gli dati un attimo di tempo vedete anche abbastanza rapida cambiare potete fare 78 accetta anche delle combo se volete abilitare che ne so la 3.78 anche se poi tanto ne prende solo una volta c'è da dire altra cosa vi ho detto che il router di default non permette di impostare dns ebbene ho fatto questa piccola modifica vi permette di cambiare dns vanno inseriti in questo modo ad esempio 111 virgola 1001 a questo punto in realtà lui si scollega dalla rete e si ricollega perché deve andare a reimpostare l'apn quindi lui questo questo sistema cosa fa va a riprendere il vostro apn e va a modificare queste informazioni attenzione perché se voi tornate qui e andate in apn troverete un bel profilo dal nome mio nonno e se vorrete che ne so cambiarlo perché dite ma no questo non mi piace voglio cambiare in e lo salvate vi perdete le impostazioni del dns quindi siete costretti a tenervi mio nonno vi tocca a questo punto andiamo avanti parlando di cose serie pigiando su questo cliccando vi dice quali sono le versioni del vostro router magari quando mi se mi riporterete qualche funzionamento anomalo provate a darmi anche questi dati potrebbero essere utili attenzione questo tasto appena lo toccate il router fa un reboot pericoloso tra virgolette però non chiede conferma né niente adesso non lo faccio poi pigiando info vi dà informazioni su la banda primaria il come si chiama al physical cell id e fcn in questa forma che ci servirà dopo di tutte le bande collegate in quell'istante quindi il lock di banda come si fa il lock di banda anzi il lock di cella scusate si fa specificando sempre e ve lo faccio vedere nel come è stato concepito con il pc physical cell id e le rfcn che cosa sono questi due parametri questo è praticamente un'espressione della frequenza quindi della banda legata anche al vostro operatore e vi mostro esattamente dove si possono vedere ecco che ho già sbagliato a qui come vedete wind arancio quindi in banda 20 l'erfcn di wind è sempre 6.200 per la banda 20 invece per team 6.300 e vodafone 6.400 quindi questi sono dati che sapete già a priori cioè per la banda 7 so che 3 350 se non ricordo male esatto sotto wind 3 mentre sotto team cambia comunque questi sono valori che potete sapere a priori invece il come si chiama il physical cell id no questo non lo sapete a priori non lo vedete dalla banda e quindi la cosa migliore è o riuscire a visitarla con il router stesso nel senso voi in questo momento siete collegati in questa banda e dite ah caspita voglio collegarmi in primaria 7 voi potete fare info e vedete che effettivamente la stringa che ci interessa è esattamente questa potreste anche copiarla allora sotto safari si può copiare sotto chrome no vabbè non è difficile da ricordare 116 3 350 quindi se voi siete collegati anche con una banda secondaria facendo info potete vedere già i parametri se riuscite magari collegarvi a un'altra bts in un modo o portando router o con un telefono così e vedendo il pc potete insomma provare inserirlo mi raccomando non è che fa miracoli non è che fa lock a 200 chilometri di distanza insomma come ha descritto nel video funziona bene il lock quando comunque la banda in questione è ben raggiungibile soprattutto nelle condizioni di indecisione dove magari ogni tanto si collega uno ogni tanto si collega l'altro ecco in questo caso funziona molto bene cos'altro vi devo raccontare di questo hack vi devo raccontare che facciamo un test di sell lock allora il sell lock l'ho concepito in modo tale che se voi cliccate la prima volta lui vi riporta già in automatico i parametri della banda principale quindi in questo modo supponiamo adesso cosa sono si in b20 perché il 6200 sotto wind e b20 se io faccio in questo modo e gli do ok mi chiede di digitare yes per fare questo lock attenzione che va digitato in lettere maiuscole non va digitato così perché sennò non succede niente attenzione che lo script non fa nessun controllo se state passando dati giusti quindi se fate una cosa del genere e gli dite yes lui prova a mandarlo al router ma il router gli dice no grazie non mi piace allora vediamo se allora supponiamo potete fare anche questo test diciamo caspita voglio la sette allora o vi beccate i dati da qui o potete fare anche così impostate la sette a questo punto siete in banda sette potete fare sell lock a questo punto avete già i parametri già qua pronti fate ok poi dopo vi ricordate di rimettere tutte le bande ci sono diversi modi di operare adesso lasciamola in auto vediamo dove si boot si mette in banda 20 gli piace la 20 supponiamo che io voglio andare in banda 3 primaria facciamo questo test allora facciamo così banda 3 è 65 1650 noi possiamo fare così e facciamo 65 1650 gli diamo ok dobbiamo digitare yes a questo punto gli dice che devi fare reboot finché non si fa reboot non c'è log di banda intanto vedete che qua il lock è presente fate il reboot qua la lasciate perdere se adesso sbarrello un po' fate il reboot in questo momento il router non sta più già rispondendo perché è staccato aspettiamo che faccia il reboot aspettiamo aspettiamo intanto siamo qui ok sta tornando su eccoci siamo dentro richiamiamo l'hack e come vedete siamo allocati in banda 3 attenzione a volte succede che rimane in banda singola e fa un po' di pasticci cosa dovete fare andate qua iniziate a giocare mettetelo che ne so banda 3 dopo di che lo rimettete in auto e normalmente si sblocca ricordate bene che se dovete disabilitare il cell lock potete eventualmente cambiarlo con un'altra banda quello funziona fate il cell lock con un'altra banda e poi fate un reboot ma se lo volete disabilitare non potete fare 00 lo accetta ma funziona male rimane sempre sblocato quindi dovete fare un ripristino ecco questa è l'unica cosa un po' scomodo però insomma meglio di niente ecco devo avvisarvi cosa succede se voi mettete una banda e questa banda per qualche motivo non funziona più perché la bts si spegne o per qualunque motivo non la prendete più bene qualunque motivo sia il router va in 3g quindi usate il lock di banda solo se effettivamente necessario altrimenti lasciatelo lì dov'è perché ad esempio se io lo cassi la 7 la 7 me la spengono mezzanotte e quindi da mezzanotte fino alle 7 del mattino andrà in 3g non mi interessa perché tanto io dormo non mi frega niente però ci sono per i nottambuli ecco questa impostazione direi che non va bene ultima cosa che fa l'h mi stavo dimenticando se andate a configurare la vpn come vi ho fatto vedere più di tanto non si poteva andare avanti se voi richiamate l'h esattamente in questo punto cioè non da altre parti ma qui lo dovete richiamare fate così cosa succede vi sblocca la possibilità di insomma di mettere un nome un pochettino più lungo e questo insomma è piuttosto utile per chi la vuole utilizzare altrimenti abbastanza limitata non penso di dovervi dire nient'altro ah sì una correzione su quanto detto sull'801 oggi non mi funzionava il parental control in realtà funziona benissimo è solo che mi ero impostato come key the device a quel punto non potevo più fare modifiche è tutto qua spero vi sia utile se avete dubbi scrivetemi sotto e vi saluto tutti un saluto e un ringraziamento sempre a Enzo Dani per i test dell'hack e anche a io che mi ha dato qualche suggerimento e qualche check quindi grazie a tutti quelli che hanno contribuito un saluto a tutti ciao ciao ciao